Allora, Giulietta, vediamo un po' sto pannolino. Aspetta, così vediamo se hai ancora la pelle secca. Gattino, aspetta un attimo. Ma dove lo hai qua adesso? No, amore, non ti faccio niente, gattina. Fammi vedere un attimo, siediti. Mi sa, mi sa, signorina, che abbiamo preso la varicellina. Fammi vedere anche in testa. Eh, ce l'hai anche qua. E allora magari è per quello che avevi la febbre. Chico, vieni un po' qua dalla mamma. Mannaggia, ti ho catturato stavolta. Fammi un po' vedere. Lo vedi? Qua. Sulle orecchie vengono i puntini della varicella. Boh, chi lo sa? Eh, qua c'è un altro piccolino. Qua un altro piccolino. Uè, ciao Massi. Ascolta, cerca di non fare tardi stasera perché qua c'è la Giulietta che secondo me ha preso la varicella. Picco ha dei puntini anche lui e Valentino mi corre di no. No, la febbre non ce l'ha nessuno, è strano anche questo. Adesso sento la pediatra se domani possiamo vederci. Musica